Torno finalmente a fare una recensione di un film. Space Sweepers è un colossal di fantascienza sudcoreano che sinceramente non mi aspettavo di vedere su Netflix. Se non lo avete capito, mi è piaciuto! Vediamo di andare con ordine. Mentre vedete apparire tutte le grafiche relative a questo canale e a come supportarlo, oltre che ricordarvi del podcast di Fantascientificas, dove troverete in futuro anche questo audio, sono venuto a conoscenza di questo Space Sweepers mentre raccoglievo tutte le informazioni sulle prossime uscite Netflix nel video di qualche settimana fa che trovate qui in alto. Immediatamente la sinossi e il trailer mi hanno fatto esclamare wow, mi sa che qui c'è qualcosa di valido. Per chi mi segue da tempo in podcast dovreste sapere che apprezzo sempre di più le produzioni coreane del sud, visto che hanno un approccio alla storia differente da quello occidentale e soprattutto stanno imparando enormemente da Hollywood. E questo Space Sweepers non ha nulla da envidiare ad una produzione USA e anzi per me batte prodotti blasonati come per esempio Batman contro Superman. Ok, forse così sminuisco i coreani però. Prima di passare alla trama voglio parlare dell'ambientazione spaziale e della tecnologia applicata. Se voleste saltare ricordo la presenza dei tag temporali di indice in questo video li trovate in descrizione. Continuando, quello che vede il mio occhio sulla tv è inebriante. In certi momenti ho messo addirittura in pausa solo per godermi gli ambienti, sia nel vuoto limitrofo alla Terra che le costruzioni orbitali degne di un'ambientazione alla Blade Runner o Cyberpunk. Il costante alternarsi di superfici e luci tra le ambientazioni dei riciclatori e quelle dei ricconi dà ancora uno stacco maggiore e più incisivo tra gli esterni e i cittadini. L'inizio poi sulla Terra tra le polveri desertiche mi ha riportato alla mente direttamente Blade Runner 2049. Qui però devo prendere in considerazione anche la scienza applicata alla pellicola e sinceramente si sono presi palesemente le loro libertà visive. Insomma, vedere distesi di pannelli solari in orbita e navi da recupero che ci sfrecciano diciamo verticalmente dalla Terra al vuoto cosmico, palesa che non tengano minimamente conto delle traiettorie orbitali reali. Non parlo poi dei punti di Lagrange che nel film è identificato come uno unico ma che in realtà sono 5 nel sistema orbitale Terra-Luna. E non dico poi che è meglio non fare mai alcun detrito in quei punti, mai! A parte queste cose mi ha fatto solo un po' specie vedere una tecnologia spaziale così avanzata già alla fine di questo secolo con addirittura ascensori spaziali e strutture così massicce da dover risultare visibili come la luna dalla Terra. Questa prossimità temporale mi ha pure infastidito riguardo l'età del super ehm volevo dire Sullivan che avrebbe 150 anni. Questo però implicherebbe che già al giorno d'oggi ne avrebbe 70. Insomma, potevano andare avanti anche di un secolo secondo me. Ultima cosa prima di passare alla trama mi ha fatto sorridere allo stesso tempo terrorizzare l'assoluta incuria e menefreghismo di navigazione di tutti i piloti, con manovre praticamente dentro i tralicci di stazioni in orbita, con la continua creazione di detriti dovuti proprio alle micro collisioni che avvenivano. Vabbè, ho giocato troppo a Kerba Space Program probabilmente. Ma veniamo ora alla trama e ai personaggi. Inizio proprio da questi ultimi. Li ho trovati costruiti bene e non banali, ma approfonditi il giusto. Ma sinceramente sul Capitano Young mi sarei aspettato qualcosa di più, anche perché tra tutti e quattro i membri della Victory, la nave da recupero detriti che manco fosse il Millennium Falcon, mi sembra essere quella più deboluccia. Comunque i nostri spazzini spaziali hanno tutti un passato turbolento e non certamente chiaro e limpido. Anzi, un robot di uso ex militare, un boss mafioso fuggito nello spazio per scappare alla morte, una ribelle che ha scopo unico di uccidere Sullivan e infine il nostro enfant Poudiz, esiliato nei bassi fondi solo per aver adottato una bambina. E questi ovviamente si aggiunge la nostra bambina esplosiva, così almeno fa credere l'UTS, una corporazione che sta spendendo tutte le risorse terrestri per terraformare Marte e spostare lì meno del 10% della popolazione mondiale, lasciando di fatto a morire il resto. Il capo di questa corporazione è il già citato Sullivan, che non sembra proprio tutto a posto e sembra avercela giusto giusto leggermente con i terrestri. Anche a ragione probabilmente, perché il nostro pianeta azzurro è diventato ormai invivibile, pieno di inquinanti e irrecuperabile. Si tratta di un film palesemente ambientalista e umanista, che si prefigge di dare un insegnamento a chi lo guarda. La suddivisione in classi sociali è fondamentale per rimarcare la differenza tra i cittadini e gli esterni, da cui per esempio si accettano solo contanti. Una vera e propria lotta di classe sociale dove cadere è un attimo, ma risalire un'impresa. La parte ambientalista è ben visibile nelle varie scene e nella vita di tutte le persone, come fosse un monito al nostro futuro. Inserisce anche tesi complottistiche che creators the past spostati, ma lo fa in maniera oculata e non calcando troppo la mano su queste ultime, che altrimenti renderebbero pesante la trama. Un film lungo più di due ore, ma non certo lento, stancante, che scorre bene e che richiede attenzione ai dettagli. I colpi di scena non sono così ad effetto, la storia è semplice ma non per questo meno bella. Alla fine sono questi spazzini spaziali che devono salvare questa bambina in difesa, mica vero poi, perché dietro c'è appunto il più grande complotto della storia. Non entro nei dettagli della trama, ma è un continuo inseguimento e combattimento in un crescendo di difficoltà, fino ad arrivare alla corsa finale che a tratti mi ha fatto addirittura sorridere parecchio. Il finale mi è piaciuto, ma forse potevano usare un po' di più e tentare strade meno percorse. Questa pellicola ha anche punti comici, alcuni voluti, altre forse solo miei personali, o punti assurdi come il tatuaggio per identificare gli appartenenti al gruppo delle volpi, che basta una luce UV per vederlo, ma il punto topico lo si raggiunge quando si va a parlare di scoreggie e pupù, come se fosse un programma anni Ottanta, in seconda serata sulle retti del Biscione. Qualche fatto curioso potrebbe essere il fucile parlante che mi ha ricordato Schippi di Cyberpunk 2077, il modo con cui si liberano dei missili sfruttando l'atmosfera o gli scarichi della nave, e la possibilità di recuperare infine i corpi in orbita per tot tempo, perché poi, seguendo la sindrome di Kessler, decadono dall'atmosfera. In conclusione, un film che probabilmente rivedrò volentieri perché mi ha lasciato contento e rilassato dopo la visione, che denota anche la perizia della produzione coreana, che ha personaggi veri e non solo funzionali alla trama, è una fotografia che mi fa sognare di poter vedere la nostra palla blu dallo spazio, almeno una volta in vita mia. Voi ricordatevi il mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate e condividete questa recensione, che questo canale ha bisogno di voi e del vostro supporto. In fin dei conti dovete poi al mio tweet l'arrivo dei sottotitoli in italiano, perché prima di quello solo coreano e inglese. A parte queste battute, ci si vede al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!